Grazie mille. Guardate come è stupendo. Ma i più belli forse rimangono questi tre. Sparchi, la sposa cadavere e le dormane di forbice. Mettiamoci anche Dumbo dai. No, è sfuggito. Ce n'è per tutti i gusti, difficilissimo scegliere, addirittura guarda, c'è Tolkien, c'è l'Avi, veramente stupendo, una bellezza sconvolgente. Purtroppo si va via però. Ah, che senso, ma vedo che attira, eh. Il Cagliostrino. Grazie. Grazie.